il primo punto radio un minuto e 27 secondi il primo punto radio un minuto e 27 secondi il primo punto radio un minuto e 27 secondi il primo punto radio un minuto e 27 secondi il primo punto radio un minuto e 2 secondi e 6 secondi e 6 secondi e 7 secondi a new best time I think we have to and right now we got a new best time to the second in the radio control and this Sweden and Fredrik Johansson 31 minutes and 11 seconds that 97 minutes and 3 seconds 9 seconds sorry 7 all night 7 all night 7 all night 7 all night 9 Properties 960 minutes and 10 seconds Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.